La solita cosa è della... della rete, dai, avanti, amici. Oddio, forse possiamo farci, eh, Marco. Non è difficile. Vabbè, fate tutto quello d'ora. Ah, devo assolutamente andare qua io, però. Eh, sì, arrivo. Lui adesso è in stravantaggio... Oddio, non è in stravantaggio. Oddio, se lo chiudiamo... Ok, Kena fa schifo, quindi ringraziate Kena. No, no, possiamo chiudere, non ha flash? Sì, ma c'ha la... la... la pozza. Nooo! Pazzo, 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 pazzo! Forza Napoli. Ma soppri! Ma cosa è un enorme F, ragazzi? È sempre una solita cosa di Kena. Dopo torna, si torna. Non pensavo che c'essi tutto... Dai, su! Ma si è preso un hit di torre, soppri! Eh, no, ma ha attaccato l'ignite, Ward. È vero che è... Non è Ward! C'è zitto. La Senna? Non c'è Senna! Ok, anche io ho bisogno di comprare robe. Ah, Senna è arrivata. Dai, dai, dai! No, no, no! Lo spedetto di venire niente Crash and Live, se è una vera sub di Vanets. Siamo Vanets... Ho avuto molta paura. È un uomo. Cazzo, ma all'ulti questo? Merda, 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 merda... Ok, arrivo... Ok, arrivo... Sospiro di sobravo. Sono sotto a flashare e non l'ho visto a flash, Gianni. Ahia, che male! Ahia, che male! Ma per riesci a tenermi... Guarda, la... La reina, un attimo. Pusha. Mi faccio il look a loro e vado. Sta arrivando, bingu! Sta arrivando! Come questa non posso mai ingaggiarla. Adesso sì. Sono arrivata nel momento. Giusto... Credo. Spero. Eh, ho l'ulti. Posso provare a scendere? Vedere se sono in range. Vabbè, 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 vabbè. Va più, basso, 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 basso. Oh! Hai l'ulti? Se li facessi in mega giro? Aspetta, non sono in range. Adesso sì. Va. Holy shit. Oddio. Cosa? sono stati per l'estrudo però scena per il drake ah scena ha flashato per la mia bolla per la ulti di arisa davvero quindi è stato utile mort io già non faccio più danni mie attenzione che scena la ulti eh eh martin è andata così effettivamente sì no per favore non il carro per favore voglio almeno l'exp sì la prendo ok la R alleluia non vuoi dovrei lasciarmi almeno l'ord? sì cazzo che danni fa ma che cazzo ma io sto laggando sono io che sono stupida e mi bodyblocco quindi sono questi i vantaggi ma guarda ho messo un award ma perché? ho sbagliato ok wow tassati la Q quando cammini verso la lane prendi movement speed ma cosa ho fatto martin prima l'ho fatto? non è che prima lo usa qui ma l'ho fatto ah scusa 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 cioè non l'ho fatto troppo perché non l'ho recuperato tutto il mana guarda che mostra Marco non l'ho recuperato proprio tutto il mana è una grande grigia di spiaggia ha ultatelo io sono una grande grigia di spiaggia vai 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 mi fa non vedi qua stupido sono molto triste non possiamo più di scusa scusa mi vado a spiegarmi per sì yes la vedo cosa buona e giusta martin ma se lo chiudessimo non ha più la puzza arrivo no si sta lenta arrivo no porca troia si lo so che si sta lento che è lento no ma mi sa che mi sa che gli ha appena tornata la puzza l'aveva appena usata contro di me eh si l'ha usata eh ma l'aveva usata contro di me scusa quanti quanto ricordo eh si ricordo quanti secondi ci ha di eh porca troia allora gli era appena tornata o c'è Rengar anche Rengar ci sono anch'io no non posso girare giù io andiamo no quanto pane siamo tutti legati all'ocello c'è Rengar nel bush occhio occhio anche Rengar che palle tutti nì nel bush nel nel bush nel bush madonna mi racchiamo ha fatto no come mi toglie troppo eh si boom ma v'è spiegato l'ulti Rengar metto parca strata non la becchierò mai con la stronza no fa troppo danno quanto evitare Rengar? troppo 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 sta scendendo Vlad no Rengar Rengar è qua ed è full no no non posso girare non la stessa lo cazzo provo a girare ma tanto anche lui ha l'ulti no 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 mica pensavo che sprecando l'ulti non potesse più farmi niente invece mi ha comunque asciuttato no mi sa mi sa qui eh Martin sei fiero di me aiutos eh non sono i rangi di ulti no multa Rengar si è fermato un attimo resti Rengar se sono i rangi di ulti reingaggio no 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 ha flashato Rengar ma che più che altro potremmo mettere qua non si è accorto non si è accorto non si è accorto no no lo sto ultando lo sto ultando lo sto ultando eh vabbè ma ah ma tu hai poca vita se riesce a ultare Rengar è tanto no non lo vedo che cerca a provare oh no c'ho paura c'ho paura no è il nostro no che va bene vattene 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 in solo no 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 aspetta adesso arrivo ora ah beh eh ma sì vado dopo se non hai troppi gold stai eh ho quasi mille dio santo io ve l'ho detto che non so giocare contro Shen no ma se lo scudo e vabbè tutti si vivono la torre che se ne vuote dai che paura fanno lo spazio mertina ora ho spazio che c'è qualcuno sta soffrendo nel mio non sono io no neanche io mi sa che è bingo e qua c'è non lo vedo illuminarsi quando no no ah sì ci sono ragazzi ragazzi se potete avrei anche bisogno di uno qua poi eh ma io sono non so più non da te io se vuoi ho la R no ma nel senso non posso erano hai una word run sì ma gli andrei fuori tranquillamente a cudo ma dove devo metterla che non sono una pagina d'acqua sì sì oh cazzo ah no mi ha preso la media ma il tp mi sono cacata non dovevi seguire mei run è stata la scelta peggiore che potessi fare ah ah aia rengar mi ha bruciato sai ma che mia nipote adesso usa Kali sì good job GG oh c'è arriva 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 ultimo l'ultimo voglio vision voglio vision voglio nice ok no fa stancuro io 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 non ma addivoo 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 scappa 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 arriva 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 sono lì ok sto scappando tipo oddio sono io corri 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 cavallo corri 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 ti prego fino a samarcanda io ti guiderò non ti fermare voli prego alive alive io sono andato a botter che eravate tutti quanti mid però se vuoi tornare bot pingwood io devo fare quel coloso drink mi spiace marco proprio mi faccio blu ma cosa è tipo quando itti il villager di micah è vero no è Nami quando hai perso di Nami no ah io ho rosso che il villaggio di marco c'è rubini i campi dalla giungla e neanche ti ricordi e che ruba cosa non sto parlando con scritto eh no perché cosa ho fatto non ho rubato niente non scherzando non ho presa mi sono cacata e niente stoltissima come la marea proprio no perché la marea è storta si madonna ma quanti autoattacchi ho resettato esattamente nella vita e allora e si arriva chi grazie Chinson no grazie mille grazie grazie Chinson salve salve cosa hai fatto arrivo da Rengar arrivo da Rengar ma che arrivo da Rengar che c'è Sen e Yumi arrivo oh cazzo tanto Rengar arriva da me tranquillo grazie Martin sei molto supportive tu serio ho sbagliato a cliccare ho sbagliato di no cliccare grazie Chinson cosa avevi fatto allora ma però che te li ho guardati prima arrivo Marco ecco oh cazzo non mi ha giardato mi sto scendendo un vale più allora provo a stare bot side lo sdru voglio provare a mettere il Drake mi fa molto ridere 5 minuti di ritardo questo raid davvero Chinson holy shit nooo si vedeva dal primo Lin che ha sbagliato ogni spell si il primo Lin ha fatto veramente così xd non si vede la bot lane arrivo ah i cani che tornavano sto arrivando gli altri mappa oh aspetta cerchietto ti da un po' di vita ah cazzo ho sbagliato nice si scende vg ma tu vabbia c'ha aspetta non tu io vado top ma non viene l'herald ho scritto hai paura? ehm no voglio farlo più ehi cerchiamo di power attenti ah 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 cazzo che cazzo sono tirata ma saprete lo fai da solo va bene abbandonare gli amici nel momento del bisogno fa parte ehm Alice annullare ha fatto anche fa parte no vero fa parte vieni da tu Shen il massimo che posso fare è spaventato nooo dovevo tancare l'occo e Rengar cosa Vlad dai apri ti cusci di merda corri 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 ma è molto mad ma è molto bad scusate ehm chomming a parte l'essere o not arrivo a parte l'addestramento come perdere i carretti ho persi tutti da l'altro per fortuna non ho perso l'exp però adesso abbiamo vinto ma sta proprio il getto del farm occhio run scusa stavano andando troppo eh ok non ci provo non ci provo non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio voglio farvi avere ancora delle orecchie adesso puoi abbassare il volume però mi ciao Mel ha tippato lo stronzetto ma ma guarda è rimasto fermo scuovere tutta sta vita volevo strorci no ma no arrivo da Vlad che voglio l'ho asciutto uno l'ho preso perchè il gioco mi lagga tantissimo posso posso ultare ma ragazze ha cominciato a fare senna non ti consiglio di ultare però perchè ma ah ad attaccarmi da quattro ok adesso è una velocità assurda no no alla torre cazzolino lo stavo per prendere dovrei mettere l'herald però lo metto l'herald bingo perca troio no sono scema scusate missa questo può ultare ma non ha ma non ha ammazza aspettate non sono credito ma dai lasciamo finiamolo donna e che possiamo farne più di uno di due così allora perdiamo in fretta no se prendesse non va bene prendesse meno cosa paura orca troia no è stato molto insomma arriva arriva ma io che hai chiesto bravissimo Vladimir ah mi sono un po' cacata mi sono un po' cacata non può soltare nessuno non ho sciotto nessuno non l'avevo visto fossero tutti quanti lì non sono sicuro che si buildi con la spezza passi no? si che idea del cazzo non riusci a mistare oh guarda questo guardami grande pingo l'hai ucciso vabbè questo ci fa tutti andiamo cosa l'ho ucciso di smart comunque se volete saverlo ti riporto bingo ti riporto bingo ma è lo smite sbagliato no ma io tipo napoli 90% è azzurro è azzurro come il mio cuore bingo coda che mi prendo la torre come la metto adesso eh no regà mi sono buggato cosa vuol dire ti sei buggato? che il mio cavallino stava impazzendo per colpa dell'eraldo non capirò mai comunque come funzionano le minface contro Vlad non prendeva danno non gli facevo niente eh no no ho il tp non lo so per questo è bad dici ora proprio cazzo eh niente ho cercato di resistere il più possibile ci stanno facendo il drago della montagnola qui è tuo no no non dovrò andare corri 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 eh no comunque shen come fa a fare questo non penso si buildi lo spezzapassi si che si buildi lo spezzapassi si si soppri si soppri si soppri ulto ulto faccio spezzapassi e loro rimandano potremmo mettere confusione ok chi ulto porca troia marco ti ha fatto un po' di run eh non so se non so bravo marco tutti i champion che ti rotto che è capito eh niente porca troia guarda fessapassi soppressa non cogliere l'ironia secondo me chi l'ha scritto sta codia izzi bizzi pesta nomes vabbè daglionello cosa ti puoi aspettare eh si peschi bizzi oh molto bene dovrei chiudermi questo e poi farmi ok per farmi cosa in serita grave riportate pingu per rubaggio di CS rubaggio scippato si però non è che si ma non è che devi venire in giungla a rubare ok ma davvero il tizio si chiama frank le tank si e non gioca un tank beh hai 186 centimetri 77 kg 18 centimetri ma no essendo che si chiama frank le tank lo so ma io sto parlando di scelta soppressa corretta sibilla lo spesso 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 a pasti lo spesso a sto passo spesso spesso in due e sono così lenta perché lo spesso passo bella c'è anche cattola adimir vattene via uccidiamolo uccidiamolo uccidiamo se no arrivo a cali no si può sultarla è da sola si 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 andiamo 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 si si io ho capito vaffanculo nocturno ma non credo wow 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 e cosa che dobbiamo dire ah venite o non venite no vabbè underway out Kaz you mèr con sopra e il piccione gatto no no soli che dovremmo farsi ferita tu ce l'hai? col piccione gatto è vero ferita grande non ci ho pensato domani registro ma non chiedere di fondare una compagnia aerea con questo nome nocturn Airlines grazie che belli ma perché corrono? perché hanno le gambe Marco cosa fai? Marco sei morto Marco no è spaventato ma gli hai fatto paura? si ciao possiamo pushare ciao belli ma che cazzo io non sono la fonte principale di danno per cui potete farlo senza di me ok almeno run arrivo 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 ma look at the moon eh Pingu puoi allontanare ok capito come squeezy cosa? c'è no no la tenne squeezy ah che cazzo di male baron merda che mi fai? ma c'è cazzo di merda Marco posso dire che c'è l'ansia? si si ok look at the moon becchiamo 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 e andiamo a Drake becchiamo il Drake grazie grazie amici cosa stavate facendo di bello? ho lanciato oh no ho io il coso riesco a beccare prima del drago sii 30 secondi 30 secondi i'm a becking oh cazzo non su una pink eh ma sto leggendo la cia sono di visionos non prendo io visionos come state? vale come stai? arrivo scusatemi ma che dov'è il clans? come stai? ah perché lo cade clans lo cade muse giusto ma guarda quanti siamo belli bellissimo guarda il blu bingo lo hai già siete tutti belli ragazzi this is a problema ho il tp ho il tp vabbè possiamo lasciargli lo possiamo lasciargli io non lo farei bingo io penso a tp oh shit non ho capito oh come è creso tu scusi esatto cosa vi ho detto? eh? che cosa vi ho detto? ho sbagliato il flash ho sbagliato il flash ragazzi non servevo neanche io per cui vaffanculo adesso vado a adesso scriviamo un ice flash al lato atta cerchietto cerchietto scriviamo un ice flash al lato no dove vai? devi essere tossi perché io sono sì ok eccoci ho perso il carretto comunque lo come cazzo è rubato tu Marco scusa eh? come l'hai rubato tu? è rubato il drago sono fortissimo Marco no è solo un criminale raccordo ma io non ho in questo file ragazzi ciao psimpi benvenuto ah praticamente hai giocato a Giale ciao psimpi come stai? che sei? ti rivieni qua Marco ben arrivato ehi mamma ho lanciato una bolla sbagliata perché il livello di E? chiede orca troio perché il livello di E? in che senso? in che senso perché il livello di E? aia sono morta no no Marco ti salverò il livello di E? se vi girate se vi girate io ho ulto eh no io vado via io vado via ma poi vado via vado via la pusciata la zonia no Alice ti dice hai livellato la 2 l'ulti invece del cosa Alice tu serio? l'E invece dell'ulti eh vabbè ragazzi sono distratto mi spesso attento vengo se guardi io non ce li sanno vado via devo beccare ma che vero eh non sa quello che fa no non me è noto una cosa no non sono me in noto non stai al 16 sono semplicemente molto confusa perché per riuscire a farvi sentire in live le voci sono tutte molto alte molto più alte rispetto a quelle che io sono scrocchiato il collo ma penso di essere meno rotta ti posso presso vedi nocturno va bene Ski non parlo più ok no sta arrivando a Kali e nocturno ah no ti sei rilanciato per il porco cazzo ho provato anch'io aiuto io avrei paura forse su serio questo sta bene su voi posso farlo aspetta che ti rigura ultro eh sono pazzo sono pazzo ma poi siamo insieme a Zemignan aspetta ok grazie avremmo fatto notare anzi perché sono molto hizzi prendi le anime marco così ne lo bsm madonna mia non sto più a mezzo cs e tornò un po' su questo cosa sono sotto ok un po' più si può scappare quando hai visto era che c'era figure con te giustamente ah giustamente che c'è figure sono io per forza no ero io ma scusa martin hai visto la sterac quanto mi ha protetto ho visto ho visto sterac quanto mi ha protetto e poi comunque sono tornata indietro è chiaramente rano faker l'ho dovuto abbassare soppresso perché era un tantino muori da viching e vai nel valala sentirei morire ma infatti l'ho fatto martin l'ho fatto cazzo l'ho fatto ciao mel faker e run vedi che sono ma perché sono faker perché mi hai rubato il minio ah ok vuoi il red marco no tre ma che cazzo mi siamo mai detto ho chiesto per cortesia allora vattene a fanculo lui da solo ci siamo no chi è da solo maladir pingo te lo stavi prendendo ah un hic un giorno riuscirò a capire qualcosa di questo gioco ma si mel guarda che non è non è una cosa necessaria ci sono delle persone mi picchiano gli uccelli ragazzi in team fight oddio in realtà oh no no team fight vinciamo c'era in girl in die eccolo ah lo so venga la morire eh sì ammazziamo questo bastardo sì marco aspetta ok drago cazzo 40 secondi ho l'isci oh no vabbè aspettiamo depusiamo midi intanto raga sì sì vado io vado io vado che devo fermare 100 mila io mi prendo la loro giunta qualcuno vada a fare la cosa top tu hai il momento di usare un tp no no non uso il tp per questa cosa qui io ti ho detto di usare un tp vedi inizio partito l'ho usato solamente una volta sì e ha fatto schifo l'unica volta che l'ho usato grazie al cazzo soppri ti sei suicidato sotto torre non pensa che questa possa influenzare le sorti del tuo tp io avrei maxato ancora la e please alice inhib mid please dice simone non so sì ma non hai la sub non puoi esprimere i tuoi pareri amici è caduta qualche torre è caduto qualche nib non mi sembra abbiamo un drago in più qualcuno sta tippando lui dai penso sia scena è l'unico col tp facciamoci il bar ma tu non mi dai no 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 ma che cazzo ma no marco no muori tranquillo lì ce so quello che faccio sono me in a caldo tra forte lo spessa pasti lo spessa pasti erano 22 milioni di respon arrivo comunque lì c'è un po' più aia mia ma l'ho spiegato prima no arriva no ce lo vogliono fregare ma no ti ho visti tuttissimi lì sono un po' cagata aiuto 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 l'ho usato beccato immediatamente che culo ok mamma mia è in culo erano 20 secondi di respon non l'avresti ucciso martin c'era dietro anche shen perdonami va bene c'è lasciami fare le mie valutazioni magari sono sbagliate ma lasciamole fare let it be eh però siete tutti qua cazzo ok cosa sto dicendo scuola guarda viene è stupido non ci arrivo molto fighi guarda tanto l'assist non mi arriva se affanculo bene chi steal e beh scusa ve l'ho spottata qui no e mi ruberò questo capetto ok non l'ho preso l'ho preso ricordiamoci che Marco voleva surrendarla ragazzi io vi prego di stare zitti ok la barba come fai a fidarti alle persone con la barba per favore 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 grazie levi testing su via devi testa devi testa per capire cosa puoi fare come mai no ranna devi testa si devo testa dai io do il gg a una casa coiolo allora amici abbiamo sono uscito abbiamo due posti liberi grazie della bella sì c'è zello dai preca un beccone soppri immagina lasciare un posto a zello schifo ciao zello buona fortuna potete invitarmi? ragazzi siamo in traggi ci sono tre abbiamo tre posti liberi è vero che non stream ma neanche lui devi dare il tilt ciao ciao soppresso grazie grazie ciao ciao buonasera ciao grazie devi dare il tilt proof a marco è vero però così se il gg ha le chiavi per aprire le case mai se zappo è ancora facciamo facciamo un zello e luke ed io non ho capito luke ed io cosa ha fatto di uno? luke ed io aspetto ah ho già invitato zappo chi c'è luke? ma dice sblocca una skin per me no è sempre andato molto male poi ragazzi guardate questo è il segno è il segno che io devo menare custody mi è uscito custody ma quindi marco vuoi ancora andare a mid? no se vuoi andare a te vai te io vado a giungla vabbè ma io faccio toccare tranquilla vabbè vai proviamo voglio provare nico ok salve ciao zello ho prenoto due posti per la prossima volta ciao ma magari in 45 minuti un'altra partita diciamo far ciao ragazzi ah ma luke è tuo cugino ok giusto è dafu il suo cugino il duke è l'altro che streamma però non è suo cugino comunque grazie psimpi per il follo eh grazie ci aveva dato il follo e l'unico ti chiedo scusa non l'abbiamo visto io sono così martina prossima volta devi giocare anche tu però smettire un per le palle allora vediamo un po' chi è no shakon non lo voglio giocare io sono ancora in accetta io non so anche giocare quindi ma non mi piace come si giocare so p o o di credo a giudizio bro ma io lo sarò sempre online lo strikebreaker però l'altro lo rinerfano e siete una cassa giocata allora io luke zap pingwood e davo ci troviamo a giocare ogni tanto ma quando ci manca un posto ti invitiamo sempre intanto gli vanno i mid martin questa cosa mi ferisce io martin non gioco più in generale gioco veramente raramente il pomeriggio gioco cioè dovevo pranzo gioco a robert codato e fino per il resto lo passo a piangere sui libri io non mi ricordo più come funziona lol yumi è una dc vero si ok mi ricordavo bene aspetta cosa fa il tasto x in alto a destra cosa fa il tasto x in alto a destra ah ok ho capito adesso ma martin ma che cazzo visto che voglio giocare una dc facile giocherò bene va bene martin andiamo se ti ricordo che l'avevi detto anche di rocket league e ci facevi in culi a stelle e strisce stelle e strisce e strisce esatto o era bigfoot adesso non mi ricordo se fosse mando no no era mando era mando ok zelnite davvero sono stanco voglio giocare qualcosa di divertente e leggero rai top lilia bring us a head chi c'ho in mid io alt f4 era per il flash giusto si è proprio il tasto giusto penso rai ma devo farmare io zelnite no 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 farmo io ok ok chi è l'adc no che ne so c'è gente che passa davanti all'adc io bo prestito dance ragazzi ma posso ancora fare la cosa che tipo al 2 vado a uccidere cosa vero si lo puoi sempre fare cosa mi metto nelle cosine vicino oddio scegli la skin cosa vuol dire che cosa vicino ah ti fai blu blu questa no 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 quelle teletrasport quella rossa aspetti per il ignite e flash allora c'ho già giusto no la le le bella quella rosa d'obbligo eh ma sei noti psinfi questa qui ha gli scierellini sulla camicetta e ha i guanti che sono colore arcobalino sfumato ahhh si guardate come flex l'armadio pieno di recolore di surgeon shen io flexo tutto l'armadio di shen perché è ancora meglio si si ma adesso la vedi ah ma sei contro spirit blow burosom ma sono l'unica senza skin ma devo rimediare che come tutti i jungler funziona meglio in giù ma che skin del cazzo è questa marco what the fuck è orribile è terrificante ma scusami ma quella è la è la skin di soraka che c'è in tft però al contrario con i colori al contrario daddy shen si magari ma la war la war è fantastica se stiamo parliamo non lo so devo vederla in game è brutta è brutta le skin è brutta con 4b che bella brum 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 allora che cazzo quell'imbecilia che è venuto qua in live di voi due e aveva la finestra aperta eh che ci rovina la live tu Marco eh tu Marco no Martin ti prego il tizio il tizio ha deciso di farsi tutta 800 metri di strada con la moto a 400 vado a questo prevedere la via di casa Alice tu che sei tutto soprattutto di cose mediche eh cosa posso fare se mi sono posizionato il palato alto con il gorgonzola borlente amputare un braccio Marco ha chiesto a te no sì ho chiesto da Alice e Marco e chi è Alice secondo te Marco se avessi bisogno di una protesi chiederei a te come una protesi per il panca te tra l'altro cosa hai cretino e non me lo posso chiedere da solo dovresti saperlo già i dottori mica vanno da altri dottori sì invece i dottori vanno da altri dottori eh sono una leggenda metropolitana stupendo è tutto colorato ride ascending a fine live no pingu holy shit please io mi segui ballato bruciato un potere braccio ok prendo appunti bravo spama dove stiamo andando siamo io e te zelknight ci massacrano spamma peppo g andiamo via io lo prendo 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 rimaginate un naso rosso qui allora se io ora vado in lane con red eh capito non ci arrivi in lane probabile mi arrivano i minion però sì devo ancora devo ancora inserire il problema è che quello lo lascia lì oppure giusto mi dimentico Marco mi serve mi serve mi serve Marco mi dovevi avvisare un po' prima non me lo ricordavo più devo andare sì no bello questo rosso l'abbiamo lasciato a 5 l'abbiamo lasciato a 5 io proprio sono stacchi di dark harvest abbiamo vinto quindi è partita da giù lei sì se sta facendo quella miss fortune ha bilanciato le cose io sono un attimo allibito scusate ho il silence possiamo ucciderli io la W non ho ancora capita come usarla decentemente non mi ha preso mai manca vai non so dove si è finito ma 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 è pura non sarà anche i danni che gli hai fatto mi dispiace proprio per il tuo carretto Lilia vai cazzo ma porca è andato via con uno di vita letteralmente potevo fare io il primo sangue vado indietro e le persone con le ali ok ma non l'avete mai scusate ha flashato Vaya no l'ha preso bastardo scusate linguaggio le anello c'è Marco che ci guarda cosa? comunque posso dire che è un pochino più facile farmare con Nico piuttosto che con Lissandra mi vuole si mi ha preso mai quella cosa ma adoro Nico che ha una frase per ogni personaggio con cui si trasforma ah si? si aah sono in fiamme per brand vuole? non lì non l'ho colpito ah ok pensavo ci fosse la tua passiva questa corre troppo come faccio a ingaggiarla? non potevo tancare di più no scusate non volevo si fa ben ma vabbè merda di uomo che non sei uomo ho sbagliato è una bad 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 guy run arrivo eh run arrivo hai detto? run arrivo oh no perché run arrivo? beh vabbè no che culo fai la cu non c'è niente voleva me avevo la cu che culo nino nino ci penso io ma guarda se ero bloccata dai minion sono morta perché ero bloccata dai minion ragazzi madonna santissima che culo vieni una doppia bo lì una doppia bo su quelli dietro ho fatto proprio una minchiata abnorme vieni qua vieni qua vieni qua non sei perché a queste parti c'è vai che pare arrivo arrivo mi piace il universo di Nico quando tira le spell tranquilla tranquilla no gestione wave è migliore un cazzo ho fatto una cazzata perché ero tranquilla 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 nella wave sotto torre cioè volevo tontarla fuori però mi sono incasinata quindi eff eh vabbè adesso c'è la push tanto ah che cazzo è successo run scusa run come si scrive quello che hai appena detto all'imbargo io ho capito all'imbargo ho detto hai il drago ma che vuoi perché hai il drago mi ha attaccato il drago io ero fuori che stavo beccando grazie grazie benvenuto benvenuto in 05 secondi l'attacx finisce quando trafiggia la spada no sense ok non ho capito la cos'era dell'ultima è abbastanza sbroccatiello sbroccatiello poi questa si muove troppo per cui non riesco mai a ingaggiarla o mi ingaggia lei andiamo tutti all'imbargo forza la scende la scende no se mi vede scende mi fare una cosa del genere e mi ammazza devi continuare marco bravi io me ne vado adesso sì c'è un aerei che vola ragazzi sono veramente xd ando xd ando parecchio e lei da dove cazzo era lei è arrivato è andato lontano ragazzi di che parto di street breaker o di di coloro ah fai la build io farei a senza river e senza river il primo ok wow questo dovrebbe essere il drago eh ma io sono in base eh arrivo se volete vorrei far fuori vai una volta nella vita io non penso di essere molto utile al break sai anche lei di liga non scherza infatti di broken ma no il discorso il discorso è semplicemente la sua movement speed perché io non posso ingaggiare cioè io la spaccherei ingaggiandola ma non posso perché non la prenderò mai corre troppo dicevo lei di liga comincia ad essere un problema quando si fa la maschera la fa veramente un fracco di danni ah ma corri quando prendi la punta si prendo un casino in moni speed non ce la sai no ora ne provo a tornare ah da me ok posso dire che il farmare con sta cosa è veramente difficile eh no niente sa dove sono gg run gg run si è vista in live stavo per un party shit 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 grazie ora però devo tornarmene via perché sto morendo un po' male posponi pippo ma ha urlato pippo per caso eh l'ha preso l'ha preso la volta scorsa l'ha preso la partita scorsa credo volesse dire sono vivo ma si proprio quello scendi in telp non so in che lingua l'ha detto effettivamente scendi in telp sarebbe simpi as fuck l'india non scherza vabbè arriva con coltellaccio lo baracchile e se ne va si non ho capito io non ho rubato la chile ma come avete tenuto vivo non so come rubato io con coltellaccio di cattiveria oh guarda sembro shane ti senti un po' figa eh eh si molto bene è così che li dobbiamo sentire martin inoltre amma amici perché mi dici queste cose cattive perché lui ti flamma quando ti vuole bene no c'è un po' è proprio come me ma soraka già 5-0 si ragazzi zenite e platino se ne hai iniziato il game ma flasciando perché si era sbagliato ho capito ma quando sei contro l'agente del nostro elo puoi fare anche queste cazzate sai com'è no nel direzione non si ricorda più come si gioca a questo gioco arrivo non era abbastanza il coso per la no forse stava più vicino moriva che allettevo subito la arrivo è perché io non gli ho già passato già passato no piango ma guarda se non era in range sta roba io la ulti eh se vi serve la ulti non ho capito muore quella lì? no perché chiaramente no io ho tenuto in vita Marco sì però devo andarmene Marco era per ringraziarti per il salvataggio di prima è vero che sei doppio tu no se eviti di scappare da me ti curo magari sai avevo paura della torre adesso avrei potuto ingaggiarla ma non l'ho fatto non sono abituato ad averne un'altra raga di gherry ma guarda ma perché hai fatto schifo ragazzi ma inanza non esiste qui invece adesso sono sciacco ah 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 non esiste sono veramente brutto ah 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 puoi anche puoi anche sparire come sciacco basta non può fare spello è un cazzo ma Marco può fare la W la W la W la può fare quando è trasformata la W quello che è Zell Knight quello per quello per sdoppiarsi e sparire la W ah sì quello sì la W ma non la so usare per bene la W oh shit Mi sa che morì Cazzolini di fiori Invece? Mi ritengo vivo Sì eh Buonissima Ranna Ragazzi ma Ranna è fortissima Adesso prende il carretto Nooo Ragazzi Ranna è buonissima L'appenicola del carretto e ha fatto Nooo Mi sono ammazzato, ha riportato A minimo Ti riportiamo noi per lei Perché lei è troppo buona Ci sono rimasta un po' male però te lo dico Ti dico te insegna una lezione Ma cosa Marti? Ma cosa stai dicendo? Sto facendo cacare questa partita A parte che devo tippare Perché questa me la puscia e mi perdo La cosa che sto sentendo con Nico È che devo tornare un sacco di volte in base Perché ho sempre l'ansia di morire male Marco mi sa che mi devi aspettare Eh ma non so se che corre Ma ho una domanda Perché hanno doppiato così Nico Cioè così russa Nico In italiano Che sembra essere tipo Spagnola Perché ha problemi a dormire Per cui russa Oh mio dio Ho sentito proprio male Vado la run No Fate un attimo run Beh Va bene anche La cosa bella è che hai iniziato a Ultami 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 Stando ferma ad attaccare Non ho capito Cosa? No parlavo di misfortune Vabbè se contro un engine matchup Che caglita bestia Non si sposta Ma si ma si ma E ulti è l'unica cosa che so fare Però grazie Marta Non so come non l'hai stata quella Non lo so manco io Che male Non hai preso le Mi voglio la placchetta Oh via Ran Via Quanti sono? Ah non c'ho meccanica C'ho la R C'ho la R C'ho la R Ma non sei qui nel bush Non sei nel bush Senti la tranquillante Non possono farmi niente Ok No Ho l'ultimo in 24 secondi Ok io me la do quindi Inizia a scendere che c'è il drago Ah ma è lì Lilia Ma cazzo ma posso rimanere? Tu sei un drago di bravura Marco Eh? Tu sei un drago di bravura Cazzo Vixi Ma che fa a quelle scemo? Ha paura Sta cerbiata strana Che continua a muoversi strano La cornetta appena fatta Non rubatemi la triple kill Ah ah A vederti Io sono tirato un accu Se comunque questa partita Continua a sopravvivere Da situazione in cui Non dovrei sopravvivere Vabbè Questa cosa Non dovevi sopravvivere Da vai? Sì Ma dai Eravamo in due Anche se Anche se Non c'è un La vai è indietrissima Io penso che Mi sforzo in sia un bot Per farmare Ma sta laggando Ma sta laggando Ma poveretto Ma Ryze sta laggando Ma chi? Ryze Ho appena detto Ah Ryze Ah ecco perché Via No Sta arrivando 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 Alla presa brand Li ho bastardo Li ho bastardo Prendetelo Piatela Piatela Ho detto l'io Piatela Bevatelo Continua Marco Non ho la ulti Però è la mia ulti C'era la mia R Ci sono tutti Vai Piatela Perfitta Ah ecco Non c'era bisogna Eh vabbè C'è lei Abbiamo ancora preso la torre Zenite Che stiamo facendo Aiuto Arrivo 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 No Ho missata Ragazzi Sto facendo schifo Partito Arriva Ryan Lucky Ho sprecato No ulti Ma noi non abbiamo Preso la prima torre Intendevi Lio Eh sì Ho frainteso Non abbiamo ancora Preso la torre Buongiorno Fiorellino Miss Fortune Esattamente Cosa voleva fare Non so Miss Fortune Sta facendo Quello Tutta la partita Tipo Marco Da 100 gold Miss Fortune Ti sei pregato Più gold Quei minion Che non ho preso Neanche uno Tra l'altro Run Run Smurfing Run 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 Ok Ok Undersendable Ragazzi Marone è fortissimo Scusate Ma guardate poi il farmaccia pure Dovrei essere io il main qui Molto bene 300k punti per il cazzo Cosa? Eh sì Ionia O mago O mago Ionia Maggiore di tutto Sì Ionia Scusa Mi ho capito male Ah no Come Ionia O mago Allora Aspetta Riprendo Ionia Per un maggi Soprattutto Guarda ce li ho anche io Che balls Comunque non sono mai stata così offensive Questa botta sembra dare emozioni continue Sì ma è normale Loro cazzeggiano E fanno queste cose C'è succedo Diciamo che Miss Fortune ci ha aiutato In questo caso Ma è che bbl Alice Puoi uccidere Lilia Per favore No perché si muove troppo Non la prendo mai di E Di tonte Ma io Ma che voglio prendere l'assist Con la R Che problemi hai? No 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 Dai Lo lasciamo mazzo Non sarebbe Ma io ti giuro che ti detesto Che vai Che vai Pigliala 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 Ci sto provando Il coltellaccio Oh Marco Grande Marco Marco Vivi per me Niente Marco Non vivere per me Quello sciago Che sta sfidando Il nostro Swain Tontato Sì per fortuna No carretto Torna qui Io sto facendo L'uno più Non più intenso Della partita Eh l'hai perso No l'ho preso L'ho preso L'ho preso Scusa perché non è ancora Lo Zonia Io Eh Volevo la Wormond Ma che schifo la Wormond Che fa ancora Non mi si provoca Non mi dice quanto mi manca C'è un split push Io andrei a farmi L'herald E poi il draken 100 L'herald non faccio in tempo 100 health Zenite Te lo dico io Fatto No ma ero morto comunque Martin Sì ok Mi si è piaccato La smake Ditti per favore Di farmare Miss Fortune Anche lei ha dei sentimenti Fare lo split pusher Senti Se prendo un S Tanto meglio no A me serve per portare Sta cosa al 7 Io credo Al 6 Al 6 Sto arrivando Ma questo non è manco il 5 Quindi rip Bravissimo Lì c'è XD Cazzo perché ho maxato La doppia Ma che sono Sono un incognito Non l'ho preso Ok Assist Fa questo Fa questo Fa questo Sai Io volevo un assist È arrivato Mi salilia da top Non so Shen intanto Che lascia morire Marco facendosi Cancilla Marco Ti cura Ma una domanda Alice Dimmi Dimmi Martin Il TP L'ha mai usato Il TP Con Shen Lo uso I primi 3-4 livelli Per tornare in lane Se muoio Oppure se mi serve Tornare in lane E poi lo tengo sempre Perché così posso Ultare via E poi tornare In lane Ultare via Tornare in lane Ultare via Tornare in lane Quindi non Cioè Tendo sempre a tenerlo E poi nel caso Di non abbia la ulti Per gli obiettivi Per cui lo tengo sempre Per gli obiettivi No V Vivi è mia In questo caso è Ulti In questo caso è Mega XD Tipo adesso Non ho la ulti Se hai bisogno Di fightare Io tipperei Rip Io tipperei Non tipperei 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 Che spreco Madonna C'è Raze di sopra E Lilian di sopra No Raze e Lilia dietro Lilia ha flashato Raze vado a prenderlo io Questo Piate bambi Piate la A questo punto Prendi Ignite Però ho paura Di non essere utile Quando non ho la ulti E soprattutto Se mi trovo davanti Uno contro il lane Uno che mi sfascia Cosa molto probabile E dopo sono perso Aiuto Sto arrivando Sto arrivando Mi è andato tutti Oh no Ah si no Ok Morforize Come? Ragazzi mi manca Mi manca l'attiva Della Della Tiamat Una domanda Io Ma Lilia La ulti La mai usata No Ah ecco Perché hai chiesto in sardo Rius Non ho chiesto in sardo Vieni qua No 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 Ho detto io Una domanda Ah ho avuto Una domanda Io No Anche io Sì Perché l'hai detto Ma va No cosa Martin No Ho perso il carretto Zelnite Facciamoci il baron Io e te insieme Ok Sono baron Soraka brand Ci sto Raka baron No 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 Fidatevi Funziona Stai zitto Funziona L'ho visto Va bene L'ho visto L'ho visto fare la tv Però ti serve il blu Vado a prenderlo Sono le cose che non ci dicono Marco gli lascia il blu per favore Dovrei prendere l'altro blu Comprende maschera E tremenda Ah ma io avevo anche Avevo anche la ulti XT Scusami Sì ma Marco Ma lì ci sono stato veramente cancellato Anche io avevo la R Però stavo guardando E niente Come quando c'è un incidente Che non è che vi fermate ad aiutare Ma vi fermate a guardare Io ci ho provato Ma sei molto prima E te lo giro di me Sono proprio dimenticato Stavossi Che si è andata a scena Molto divertente Che mi ho sballonzolato Da una parte all'altra Quest'altra che mi ci giulola il blu Sto giulando il red Bravo Lio Palle Tranquillo Lio Gli avevo preso io il red Ma andamela fanculo Gostardo Ma fa che ci fai con il red? Dobbiamo fare il baron Pippo 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 Che ambulanza sto cazzo Che guarda l'ambulanza Signora ambulanza andiamo Questa è la classica ambulanza Che ti mette E poi cerca di aiutare Ha preso la spada Run Cosa è successo? Mi ha rubato Scoot Le Sama Vai ora vi facciamo il baron Non preoccupatevi Grazie Ma Quanto moriremo? No 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 Non moriremo Però stai più vicino Te lo devi tankare Io ti curo Arrivo Grazie Questa scemo fare A noi da solo A noi da solo Da 100 gold Sì ma No no Ranna Sei lontana Mi guardo Mi guardo Mi guardo Mi guardo Ma c'ho l'ansia Ad andare da sola In line Zanetta Non ce la facciamo Ce la facciamo Ti fidi Continua Io sto continuando Io faccio così Vai tanto Io vado da Alicia Però sono lontano Ok Ma può sultare? Non è come muoio No è Anche sì Vado a dare una mano a Marco Oh l'ha usata Oh no Ora quanto cazzo corre Arrivo Ti ho detto che non ce la facciamo Se mi fosse bloccata la Ah mi ti voglio stacca un attimo per la warmong Non ci ho pensato Sì ma sei secondi Hai la warmong? Sì certo Sì Ora è fortissima con la warmong Che sboro Quanto che c'è di grida? Non fare il veneto 40% Sì Più 20 fa 60 Ok posso prenderla Puoi rimanere ti curo Ma lasciami stare Posso andare a comprare A fare quello che mi pare? Molto bene Aia Ti curo tranquilla Mi viaggio? Sì Guarda Non lo so Ciccia Come è nuova Non lo so cos'è questa roba Ma è una cosa che Boh C'è Mio No Ragazzi io sto giocando A 45 FPS Io vorrei lasciare morire Zenite così Giusto per Ultaran Ma no Ma saremo morti tutti quanti Io ho la R Sono sua raga Ciao Gato Cretese Cretese Aiuto Alice Mi tiri fuori da qui Per favore Ma guarda I 700 gold Sarebbe il caso Di dare una chance A questi Alice Ti rinomi fuori da qui Ti prego Ma sei full vita Cosa vuoi? Ulti up Easy Guarda Tornare anche indietro A smetteggiarli E allora che cazzo Piangi? Cosa piangi? Cosa vuoi? Ragazzi mi sforzo Ma ho dato 25 gold Come 25? Sì Come possibilità Cioè non sei riuscito A farti quei due insieme Fai schifo Nico Torna nella sua Palla di Nico Leonardo Non sai cosa ti dico? Cosa ti dico? Mamma mia Che Che schifo Alice aspettiamoli qua Vieni Ma abbiamo anche la crowd Solo Si vede che abbiamo Un bravo genre Ok loro è passivo Dipende Dai passerete? Si non ho ancora finito Sono i 20 Marco se ne va Mentre passa Giustamente No Ma che culo Aspetta Faccio io tranquillo Marco sei come l'uva Passo in un saluto? Si Oh no Mio XD Buonanotte Ah no non ho voltato Ok Non ha mai voltato No ho voltato una volta No una volta si Ma ho ucciso Allora due Seconda volta ho voltato me Vabbè voltare più di una persona Eh ma non eravamo insieme Marco Cercello Cioè io so fare due più due In questo caso Alice secondo me è sbagliato Io te lo dico Alice non sai nemmeno Curare le scottature da palato Cosa vuoi sapere fare due più due? Sei l'unico che si scotta col palato Sul palato comunque Per rado il gorgonzola romante Nella pizza rustica Oh Grazie signora Soraka No Mi ha ammazzato Alice Eh si eh No Mi hanno chiuso i minion Ragazzi ma che fichi siamo Eh vabbè Poveretti Non mi sembra proprio che sia top div ragazzi Erano veramente degli scarsoni immondi questi Il gg se lo prenderanno Che è diventato tipo il nico Sì Assolutamente Ragazzi ma tutti esse abbiamo preso Tranne Run povero No Davvero Non ho preso esse Ma Run ma come? Run Allora Run Bisogna lavorare sul farming Che poi lo parlo io Che in 28 minuti Ho farmato tantissimo E io 167 Possiamo stare su Raka al 6 Ma scusami Ma ho usato Ho usato Sì vabbè Ma solo perché ho visto Mi meno Scusami Ah ok ecco Martin Run è il pochissimo farm No perché direi Che sta botti Ma scusa Ho 100 di minion Come pochissimo farm Eh sì Per 28 minuti Sì Ma Dovresti farmare Dovresti farmare Allora Un buon farming Un buon farming Un buon farming Era che non puoi considerare Il fatto del farming Isolata Di Sraga Perché nessuno Gioca Di Sraga Di Carey E quindi Non Sraga Ha circa 126 milioni In più di quanto Dovrebbe Ne hai Di solito Esatto Allora Cosa facciamo Chiudiamo Sì a questo punto Sì a questo punto Chiudiamo Io vi saluto Ciao ragazzi Grazie Ciao Ma scusa Ma una Hyperol veloce Una Aram Aram o Hyperol 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 è la versione Di Tio Fetti veloce Però dai Aram veloce No Facciamo un Arammino Dai C'è un posto in più Chi vuole O due Non lo so Anche Esatto Ci sono due posti in più In liberi ragazzi Se qualcuno vuole Far un Arammino Dai Dai Fate un Arammino Ciccio Fai schifo Eh però Ciccio Sei veramente un mostro Ciccio Io ti sto un po' odiando Ci sto quel po' Dai Martin Non rompere le palle È vero Vieni Martin Ne parliamo al club Al club Vi saluto anch'io Ciao Ciao Grazie Però We love Dove vuoi No Ciccio Scherzavo No Zappo Eh sì Che zappo No Ciccio Io ti odio Vramente C'è Preferisci giocare con gli altri Sono molto triste Dov'è la mia Orianna preferita? Non hai voluto giocare a Con la Nico Bella E poi Orianna Grande Con quella A Mi ricorda il periodo di MSN Dove cambiavi tutti i simboli Mamma mia Quella era una delle più quotate Scusatemi Intanto prendo la pillola L'alpha L'alpha Esatto Andiamo nei quattro Eh sì Non ce ne sono E sono la schiga Aspetta aspetta prendiamo la pillola Eh? Ciao Andrea Sta prendendo la pillola Aspetta aspetta Ciao Andrea Malzar Chi cazzo è Malzar? Non sto parlando Scusatemi Ho due in rossi Moleste E io ho rollato tutto il rollabile Sì grazie C'è Atrox O c'è Ziggs Twisted Fate Faccio schifo con Twisted Fate Però dai Ho già usato Anzi ciò con Ziggs Sì Cosa prendo? Stregoneria con Twisted Fate Come rune? Come rune Di quelle prefatte Senza tempo Ispirazione Eh se vuoi andare Se vuoi andare a P Prendi la cometa La cometa sarebbe? Cometa arcana Stregoneria Ok Perfetto Grande Sì dai Ho fatto le rune a caso Easy Avrei voluto il low Io provo a me Sì Soraka Che cosa Cosa volevi vedere? Cazzo Fit and Stick Vabbè Eh l'ho tolto io F adesso curo tu Eh Marco 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 Dimmi 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 Oh niente così volevo dire il tuo nome Ah ok grazie È bello Totalmente a caso Abbastanza enormi Anche adesso voglio sentire Legendary No ma ragazzi Aram Aram di solito siamo molti xd Sì Oh io che sono Un po' Muttipi Atrox Giungla Ieri me l'ha intratta a Esfoss L'aram Che bella Davvero Hai giocato con Esfoss Era a metà AFC Sì sì Che tette Si virte in pasta di neve Run Non si dice Ma tu che non Mega tette Cioè Che sì no? Dovevi dire Che boh Facciamo i soldi Mamma Ne siamo usato laico Madonna Anche adesso Dovevi sentire Legendary Bellissimo Blitzcrank Con la cometa Mamma mia Oh lì Shit Eh ma il fatto è che Se c'è l'app E l'evolta sul grab Rimane sul posto La cometa Cioè Cade dove ha grabbato Ma lui sposta via La persona Vediamo Se mi ricordo Come Si usa Quest'uomo Oh vi curo Molto 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 bene Voglio andare lì ecco Full tank What? Perché andate ad andare Vladimir full tank Ah Per piangere Per non parlare Del busto Inesistente Quale busto? Ragazzi Non flammate Chi ha il seno piccolo Ecco Perché sono sensibile Tutti i seni sono belli È vero Confermo Sono insieme io Però Con l'anissivir Ma che cazzo Ragazzi Se io do il first blood Allora significa che hai vinta È sempre così Ok Alice Siamo morti Ah su lol Sei calmo magari Lucian Grazie Grazie Ma basta Ma addio mio Ho slainato un enemy Fortissimo Grazie Mi ha dato pure l'assist Onestamente Vedendo la comp Prima X Fortissimo Molto bene Arrivo Stato il campo Ma io non avevo la Woo Arredo là Si vuole di avere la W Invece non c'è E' impazzita quella Soraka Grazie Soraka ha un nome Non mi ricordavo chi fosse Soraka Ti stavo curando Ma Ai 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 Non ho visto che Glisskink fosse da me Alice Farò finta che non c'è Colpa tua Ma in realtà Sotto sotto sappiamo Che è colpa tua Io ho fatto il possibile Ah Voglio la testa rossa Grazie Ci ritendremo ciò Con il nostro La vero Tanti sta andando Vladimir Ah Non ti avevo fatto Porca troia Perché c'è la Doppia No Non sono il tipo Lo sai Adesso aspettate Perché mi deve Mi devo prendere La bacchetta distruttiva No ci metto troppo No vabbè Aspettate Dai Raffami vedere La bacchetta distruttiva Dai dai Sono 800 Devo arrivare 850 What? Impazzito What? Dai 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 Ok Arriva Ma guarda Chi imbecile Per salvare Vladimir Non ho la cura Cos'è Cos'è che pensavo Questo Perché pensa Anche questo Ma piccato C'è È tante Quindi Non farà Mai danno Ok È carina Questa No No Che è l'uomo delle carte Tra di noi Io Che non ho ancora capito Che non ho ancora capito Cosa mi serva La E È una passiva Eh Ah ok Ciao Ciao Andrea Grande Si chiama Lucidano Però ok Ti ho detto Andrea Grande Comunque ha ultato Cassio Io più di così Non posso fare Senza male Però niente No con le pozze Non ti curo Mercoledino Ragazzi arrivo con la ulti E faccio pentakill È detta Sì sì Adesso vi faccio vedere No Amicida Lei Letality Lei I think yes Ragazzi la ulti Pensavo mi piacesse morire Invece sono morto Eh sì Ci sei tu Atrox La vecchia ulti Ti prendeva No no Nel senso Ogni volta che vedo gente Ultare con Atrox Non muochino mai Ma forse loro lo sanno Ma perché devi No devi continuare A uccidere Più uccide Più uccidi Più hit Più hit Perché ti aumentano Tante le cure E con la E di passiva Ci ho curato Con i danni fatti Soraka Full AP Please No Adesso faccio No Ok La cosa che La faccia rossa Fuck Voglio la faccia rossa Thank you Bonk Very GG La pala stiltata Come uno strano Oddio Sorry Arrivo con la Di muda Di muda Di muda Di muda Di muda Facca Ehm Vorrei morire Sinceramente In game Sospicioso Ehm Un po' tossica Forse questa cosa Carino Kenny Lo piango Bella Dai via Leona Paura Ragazzi No Faccia rossa Sì Grazie Porco cazzo Ciuffo Ciuffo rosco Nasal in su Oddio Un po' triste C'è la mia cometa Che non ha ammazzato Lucian C'è la mia cometa Ehm 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 Nooo Volevo la faccia rossa Faccia rossa? Sì Dark Harvest Sì faccia rossa Che sberla Che sberla Oh Cosa Non rispondo Il mio Lo spedio Che Che Falle Dio Mio Il Gordon Care Sì la faccia Nooo Stop Ma dai Ti è fregato così Ah non andava a me Dove ricordare Perché Apri il nome Ma dove va Dove 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 Le Aram Non le sopporto Proprio Sono senza mana Devo morire E andrò ora A farlo Cassioteia Sono tuo Ah vabbè No Questo gioco Mi fa schifo Senza mana Latte Ma perché vuole me Ma che cazzo vuoi Ma guarda Struzzo Allora Full AP avevamo detto Vero Sì Cosa si fa Full AP Non si è divertire Cosa posso Buildare Full AP A me infatti Gioco Giungle Ma si Ma che cazzo è La Billy Pal Ecco Alice Ma Alice Cosa Questo Sì Oh Questo mi piace In questo caso Ionia O Mago Il mio amico Lo chiamano Autotreno Atrox intendo Però quando ulta Non si ferma Se non ha nexus Sì Avrebbe senso Però E prendo Archibucchio E invece Chi si ferma 10 secondi Alla ultima Arrivo Arrivo Ma cosa con le carte Ma non sono io Sono io Bravo Io se fossi uno Tipi Mi chiamerei Soka Bellissimo Devo tatuarlo Best pg ever Sono assolutamente d'accordo Del miglior cazzo di anime Esistente al mondo Stravero No Di Sì Forse Meglio l'anime del manga Ragazzi Mi formo Scusami se è miglior manga Anche L'anime Il reboot Ci sta Sì No io penso Che ho visto qua Quella del 99 Hunter Hunter Anch'io Perché l'ho visto Che avevo 12 anni Sì 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 Tornavo a scuola Dalle Stavo a casa Da scuola C'era Hunter Hunter Di che anno siete? 96 Ah ok Quindi si ci sta 95 Ah sono scema Oddio Sono scema Oh No Hai tirato la q di qua Hai potenziato le e 200 iq Perché non hai la ra O per sbaglio Eh? O per sbaglio Non ho capito È una battuta Culla piva l'eroeo Tutti i fire moolson Vabbè No balls Oh signor Perché è in vilarese? Moonstone Ma l'ho fatta a moonstone? Oh questo? Boh sì ok Faccio così a caso Di nuovo ho ammazzato la E all'undici Ma perché ragazzi ormai è meglio Ma è giusto No è giusto Ma no al 16 Che non è la R ti ricordo E alla R o due punti ragazzi Ragazzi stacco vai Ciao Nick Ciao Nick So che ci siete È davvero tutto anche sto blood Sono impazzita Ah mi sono cacata Vabbè Mean Via Via Guardi mi invece dice no Non ne ha abbastanza lui C'è chi dice no Ragazzi non farà me più vi giuro Questo schifo Adesso prendo la chitarra e la rompo per Ah non posso beccare Grazie Rossa Signore mio Sapevo Vai auto treno fino al Nexus Sì finché lo curo io ho fatto bene È vero È vero Dicendone è vero Oltre poi ho la ultima Ho avuto diritto a cazzo mannaggia Aspetta me No Pensavo dicessi Mannaro Non so perché Ho perso perché Un famosissimo cazzo mannaro Qualche veterinario magari ne ha conoscenza Comunque volevo dire Volevo dire una cosa che Senza nessun motivo apparente C'è Eugenio che mi ha scritto In suo telegram Alice non smettere mai di essere te stessa E penso stesse me mando Però mi fa molto ridere Senza alcun motivo Ma che Ho avuto il full tank Sì 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 Non ho tirato la R Sono un po' triste Raga ma sto 4 di 18 main Sono stupido Una volta che ho giocato Vai Karim e Renaram Poi è diventato un mintero un bel po' Ma ma ho missato tutto Ho missato tutto il missabile Sto arrivando Sto arrivando Abbiate fede Abbiate fede amici Ma che toxic Porca verda che donna Non mi avrete Non mi avrete Non mi avrete Vili Marranzi No better swamp Un paio di Palle Oh no Ho giocato a baseball Con la blitz Ma perché io muoio in continuazione Marco sei full vita senza di me Stai imparando Scusa 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 Te l'ho appena detto Te l'ho appena detto Girati 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 No 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 Ma quello ha fatto quadra Bravissimo Andrea Ma Andrea Marrano Come cosa Come cazzo si chiama Vai vai Come si chiamava Jackman in Australia Sono un po' triste E niente La fa Australia Il film Ma non è scipenta No Eh no Erano già sponati Marco sto arrivando a No Ah cosa c'è la cuglia Direa sto arrivando a No Ciao No Ma ragazzi Vaffanculo Sai che era Ciao Credo che anche Non serve Tipo Rakan No See you later Ma cazzo Anche tu hai ragione No ma là Sai che c'è un accento Tutto strano Magari Jackman Lo pronunciano Mandriano Ma è vero C'hanno tipo Jackman L'acqua Poi c'hanno Dall'acqua che gira All'incontrario Anche è vero Ma hai detto E gli sfiera australe Ma sono fatta sola Ma sono fatta sola Eh si sono in cinque Se i quattro sono morti Si Andiamo Perché non viene mai Andrea Che mince sto buildando Ciao Ho 42 Di piede Di piede A luce valgo A parte che si Ho 42 di piede Ma comunque Non ho 42 di piede Anche mia nipote Ha quasi 42 Eh ma ero molto triste Ho 41 Oh sì davvero Sì è tipo il 41 e mezzo Ero molto triste Perché non sono andata A Decathlon A prendere le scarpe Da escursione Per andare a fare trekking E tipo 42 No 42 è il numero massimo Da donna Cioè se Se non mi stavano quelle Dovevo prendere per forza Da uomo Non c'erano modelli Da donna Ma perché Cos'è questa retorica No No Sto arrivando Proprio no Cazzo bello Marco Ti stai facendo picchiare On purpose Ok Ah ah Picchia 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 Picchiarello picchia 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 pazzarello Tanto io rispondo la ulti Tanto finita prima No adesso lui vuole farla qui in base Grazie prego amici Picchia auto terreno picchia Ho detto picchia auto terreno picchia Molto bene Victory Allora amici Corgi Ciao Io vi ringrazio per essere passati Grazie mille a tutti quelli che ci hanno fatto compagnie live Andrea ha detto Martins Ergo Martins Dottor Martins Perché sono tanti Poi C'è stato Lio C'è stato Zello C'è stato Sopri E c'è stato Pingu Pingu E poi Grazie ai Raid Chinnason Vale E per il follow di Psinfi E che soprattutto Psinfi di essere stato partecipato in chat Che bello Che è riguarante Che bella cosa Le persone mettono follow e se ne vanno Ecco E fanno bene No com'è Questo parla ancora Non lo so Allora adesso andiamo da una persona Molto molto carina Che merita anch'esso Il follow Non ho capito il francese che ha scritto Non lo so Lo stavo leggendo Lo smetto di leggere Molto bene E quindi andiamo a raidare il buon Mazzuetto Ragazzi Mazzu è bellissima Ragazzi Mazzu è bellissima Ragazzi Mazzu è bellissimi Sì Ed è molto bravo nella cosa che fa Ride Mazzu Basho Basho Basho